Musica Giornata intensa per la confartigianato Ancona Pesaro Urbino che sabato scorso 26 marzo ha inaugurato il nuovo ufficio a Corinaldo che va a sostituire quello storico con uno dai locali più ampi e comodi per la clientela rinsaldando il rapporto con il territorio Al taglio del nastro i protagonisti di giornata con il management dell'associazione di categoria che è voluta essere presente per confermare la propria vicinanza ai dipendenti dell'ufficio territoriale e al territorio in generale Per le imprese, per le persone e per i territori aggiungiamo perché si parte dal territorio si parte secondo noi anche dal valorizzare questi borghi che ci sono sul nostro bellissimo territorio perché la giornata di oggi sarà proprio incentrata su questo tema ma vogliamo anche dare una dimostrazione concreta con l'inaugurazione appunto di questo ufficio sul fatto di essere sul territorio è particolarmente importante presidiare i territori anche a livello di servizi è far capire alle imprese che c'è la possibilità comunque di lavorare anche nei centri che sono un pochino più lontani dalle grandi città e la prima regola è sicuramente dare i servizi alle imprese ma anche a tutti i cittadini per questo nuovo ufficio, questo investimento che va in controtendenza rispetto a quello che molti fanno e invece noi vogliamo essere veramente al centro della vita delle persone e fare in modo che le persone restino in questi bellissimi paesi che meritano veramente di essere vissuti Davis Esposto è il responsabile dell'ufficio confrattigianato di Corinaldo che viene mostrato in tutta la sua bellezza non è una novità assoluta per questo territorio ma lo è in termini di spazi, di servizi e di entusiasmo Sì, abbiamo deciso di fare questo cambio per cercare di dare maggiore visibilità alla zona anche alla struttura confrattigianato abbiamo deciso di fare questo passo anche per un discorso di clientela che ci chiedevano probabilmente una maggior possibilità di arrivare prima all'interno dell'ufficio per cercare anche di evitare problemi con dove eravamo prima e quindi siamo più facilmente raggiungibili a livello di struttura e questo ci permetterà penso anche di incrementare anche la nostra clientela di zona Sindaco, per Corinaldo è una bella realtà questa c'era già confrattigianato ma essere così anche visibili e anche punto di riferimento in questo momento è significativo? Sì, assolutamente, una bellissima zona che ha un significato molto importante queste vetrate luminose dei nuovi uffici della confrattigianato a Corinaldo rappresentano la voglia di questa realtà rappresentativa del mondo del lavoro in particolare dell'artigianato una voglia di rilanciare una voglia di essere presenti in maniera ancora più decisa nella nostra comunità e quindi dei servizi alle nostre imprese e quindi ai nostri cittadini ringraziamo la confrattigianato ma soprattutto le persone che ci lavorano con le quali collaboriamo sempre, da sempre nella stesura dei nostri bilanci nelle analisi rispetto al tema del lavoro, dell'economia è veramente una bella collaborazione, oggi viene rilanciata e rafforzata Dobbiamo impegnarci per le nostre imprese, è un momento veramente difficile siamo fortemente preoccupati per questa situazione ma l'impegno di confrattigianato c'è e oggi deve essere anche più forte l'inaugurazione dell'ufficio di Corinaldo rappresenta non con le parole ma con i fatti il nostro impegno nel rimanere presenti sul territorio mantenere 18 uffici nella provincia di Ancona e 14 nella provincia di Pesorobino rappresentano un impegno con i fatti e non con le parole cercando di garantire un'assistenza e un vero reale sostegno alle nostre imprese, rappresentiamo come confrattigianato imprese Ancona e Pesorobino 10.000 imprenditori e quindi è importante garantire un sostegno e una presenza anche fisica sui territori Quindi lo spostamento nella vicina Ostra per l'inaugurazione alla sala delle lance della mostra esposizione artigianato artistico Ars Ingenium, la via maestra L'artigianato è ricco di eccellenze, l'artigianato artistico è un'eccellenza importante quindi con il nostro brand, la via maestra che abbiamo creato 20 anni fa andiamo sul territorio facendo conoscere e riscoprire il patrimonio dell'artigianato artistico i nostri imprenditori e le eccellenze che abbiamo lo facciamo qui a Ostra in occasione dell'assemblea che ha visto l'elezione del presidente Gidio Muscellini e avremo i 100 migliori imprenditori dell'artigianato artistico e di seguito per l'organizzazione del convegno dedicato alle strategie di sviluppo per i borghi nell'ambito del percorso di ascolto e confronto con i territori avviato dall'associazione con un primo appuntamento a Monte Roberto Sono dieci anni che evidenziamo che questo territorio è un territorio ricco di unicità e è un valore inestimabile tra cui i tanti paesi, le tante micro città che abbiamo e i borghi sono unici e vanno valorizzati quindi nell'ambito del congresso di confartigianato in cui abbiamo dato un nome protagonisti nel cambiamento i nostri imprenditori devono essere protagonisti siamo portando avanti una campagna di ascolto in tutte le bellezze di questo territorio della provincia di Ancona, Pesaro, Urbino quindi questo convegno ha proprio l'obiettivo di valorizzare i borghi di mettere in rete i sindaci di utilizzare e sfruttare questa opportunità messa in campo dalla regione proprio con questo obiettivo valorizzare tutto quello che di bello abbiamo nelle marche e ovviamente mettendo protagonista le nostre imprese creando reti e opportunità affinché in questo territorio ci si venga a visitare da un punto di vista turistico ma che comunque anche i giovani e le persone aprano imprese anche in queste realtà che vanno valorizzate e rese competitive in un contesto globale come quello che noi abbiamo titolo del convegno strategie di sviluppo per i borghi gli eventi come valorizzazione del territorio borghi al centro della nuova politica regionale con una legge ad hoc che stanzia quasi 8 milioni di euro ha ricordato il consigliere regionale Mirko Bilò intervenendo al convegno un traguardo importante una visione regionale significativa quindi un investimento importante da parte della regione e degli imprenditori dove il commercio, l'artigianato e questa legge sui borghi diciamo riavvicina un po' quello che sono i concetti di lavorare insieme dove non ci sono più confini l'entrotera e la costa devono lavorare insieme e quindi una legge che può dare una svolta sia a livello sociale che economico L'assessore alla cultura della regione Giorgia Latini intervenuta da remoto ha ringraziato Confartigianato per sostenere e promuovere l'impegno della regione a favore dei centri più piccoli Non bisogna abbandonare i borghi sono un presidio fondamentale sono la nostra storia hanno delle potenzialità secondo noi veramente impressionanti ancora di far conoscere il paese e di far conoscere anche le caratteristiche dei territori come associazione diciamo sempre vogliamo essere attori del territorio vogliamo essere promotori del territorio in questi borghi è più difficile fare economia ci sono difficoltà particolari il motivo di questo convegno è mettere al tavolo a partire dalla conoscenza scientifica di quelle che sono poi le difficoltà di questi borghi mettere quindi la conoscenza mettere le attività finanziarie e mettere poi le attività economiche se riusciamo di far incontrare le esigenze di queste categorie sicuramente riusciamo di fare un grande servizio per i borghi e possiamo sicuramente dire che è il modo migliore per far ripartire veramente l'economia in tutto il paese il convegno che ha visto la partecipazione di tecnici, manager e accademici che stanno studiando il fenomeno dei borghi è stata anche l'occasione per presentare ufficialmente Egidio Muscellini neoeletto presidente territoriale di Senigallia gli obiettivi sono quelli dove io ho puntato da tanto tempo e da dove ho puntato da tanto tempo è quello di lavorare tutti insieme lavorare tutti uniti conoscere tutto perché io sono il presidente però dietro di me ho tante persone siamo un gruppo di 20 persone conoscerci per poter fare sinergia e poter ottenere dei risultati tutti insieme perché come si dice spesso è un modo di dire l'unione fa la forza però poi non dobbiamo fermarci sulle parole ma con i fatti da ricordare che le opere di oltre 40 maestri dell'artigianato artistico delle province di Ancona e Pesaro Urbino della Via Maestra allestita presso la Sala delle Lance ad Ostra è visitabile con ingresso gratuito fino al 3 aprile dalle 17 alle 19.30 sabato 2 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e domenica 3 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30